Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, abbiamo l'epistolario numero 1 tra le mani, proprio per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive nel 1917, il 28 di giugno. Ecco, il 28 di giugno 1917 è quasi un anno dalla sua permanenza in questo luogo, in questo convento e in questa lettera lui, come ricordano i curatori dell'epistolario, lui assicura il buono stato di un padre e lo tranquillizza sulle confessioni passate, infatti lui risponde ad una lettera di Padre Benedetto che purtroppo non ci è pervenuta, lui scrive, ricevo poco prima di ora la vostra carissima lettera e mi affetto subito a rispondervi per calmare, se sarà possibile, il vostro spirito agitatissimo. Ecco, questa lettera potremmo anche attualizzare con questa lettera anche il messaggio di Padre Pio anche per noi, ecco, per tranquillizzare il nostro spirito. Permettetemi, padre scrive che francamente vi parli, i timori che voi sentite e che me li avete espressi in parte nella vostra lettera sono suscitati in voi dal nostro comune nemico, in voi non vi sono ricadute che procedono da deliberata volontà e se siete ricaduto in certi mancamenti, non mai gravi però per grazia di Dio, sono quelle ricadute di cui nemmeno le anime giuste ne vanno esenti. Circa poi l'accusa dei vostri peccati nelle vostre passate confessioni è stata fatta bene, vivete tranquillo. Ciò che ho detto non l'ho detto mio caro padre per semplice formalità o per una certa specie di pietà, di carità filiale verso di voi che in realtà non sarebbe tale, ma l'ho detto perché così sta la cosa dinanzi a Dio, quindi credetemi, calmatevi padre, la verità questa volta sta da parte mia, ne risponderò io dinanzi a Dio, scrive padre Pio, padre Benedetto, di ciò che vi ho dichiarato con voi. Le ultime parole di esortazione dopo aver ricevuto la vostra confessione furono queste, adesso che conoscete di aver offeso Dio con i vostri peccati, avete dolore di aver peccato? Fate un fermo proponimento di non ricadervi più e siete risoluto a perdere la vita anziché offendere di nuovo Dio? Ecco queste e non altre furono le ultime mie parole, scrive padre Pio, ora vi scongiuro per le viscere, per la mansuetudine di Gesù a voler prestare credenza alle mie assicurazioni e così colmerete i vuoti del vostro cuore al tremuto angustiato, Gesù lo vuole e voi non dovete fargli questo torto.